19 dicembre 1861 Nasce a Trieste Italo Svevo, pseudonimo di Aaron Hector Schmitz Da una famiglia benestante di origine ebraica e proveniente dall'Ungheria famoso per i romanzi a sfondo autobiografico e ispirati alla introspezione psicoanalitica Svevo vede l'inizio del proprio successo grazie all'incontro con James Joyce nel 1910 che lo incoraggia a scrivere Ma dovranno passare altri 15 anni prima che Eugenio Montale lo scopra e ne faccia apprezzare definitivamente le qualità letterarie La guerra è una cosa terribile Ancora una volta la vita mi ha dimostrato la sua grande originalità Senillità e la coscienza di Zeno, i suoi romanzi più famosi diventano così argomento di discussione in tutta Europa Svevo muore a Motta di Livenza il 13 settembre 1928 Saluto a tutti